Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana, spero abbiate passato un buon ferragosto, ma l'estate continua e ancora tempo d'estate, ancora tempio d'estate, noi ritorniamo come ogni settimana in diretta qui dai nostri studi per farvi compagnia, per entrare nelle vostre case, per aprire il nostro archivio, per prepararci insieme a partecipare alla celebrazione eucaristica delle 11.30 come tutte le mattine. A proposito del nostro archivio, come avete avuto modo di vedere anche dai promo che hanno preceduto la nostra diretta, sul canale YouTube Padre Pio TV è possibile rivedere tutto quello che va in onda, per cui se per caso vi siete persi delle puntate o se avete voglia di rivedere degli stralci, dei passaggi, interviste, testimonianze, andando sul canale YouTube di Padre Pio TV potete trovare quello che appunto è il nostro archivio. Per il resto comunque ve lo riproponiamo come ogni giorno anche qui in tempio d'estate. E allora oggi iniziamo con come sempre il santo del giorno, la chiesa oggi festeggia San Rocco, terziario francescano, pellegrino e taumaturgo. Nato a Montpellier in Francia intorno al 1300, su di lui, sulla sua vita si conoscono poche cose, poche sono le fonti, ma si racconta che rimasto orfano dei genitori giovanissimo, distribuì tutti i suoi beni ai poveri e si mise poi in pellegrinaggio verso Roma. Durante il suo pellegrinaggio si fermò in diversi luoghi d'Italia, in particolar modo ad acqua pendente, per dedicarsi all'assistenza degli ammalati di peste, compiendo guarigioni miracolose che diffusero la sua fama. Peregrinando per tutta l'Italia, si dedicò ad opere di carità e di assistenza, promuovendo continue conversioni. La devorzione a San Rocco è perciò universale ed è invocato specialmente contro le malattie contagiose. Questo è il santo del giorno che la chiesa festeggia oggi, noi facciamo gli auguri a tutti quelli che portano questo nome. A proposito di oggi, come sempre l'accadde oggi, ci porta indietro di qualche anno fa, ovvero al 16 agosto del 1972, quando durante un'immersione nel Mar Ionio, a circa 230 metri dalla costa di Riace Marina, il subacqueo romano Stefano Mariottini individua a circa 8 metri di profondità due statue di bronzo. Le vedete qui sul nostro schermo di circa 2 metri di altezza. Come avrete capito, si tratta dei bronzi di Riace risalenti al V secolo a.C. Sono considerati tra i capolavori scultore i più significativi dell'arte greca. I bronzi di Riace sono oggi custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove è possibile ammirarli in tutto il loro splendore. Tra l'altro è davvero un museo molto interessante che merita di essere visitato. Quindi se qualcuno è in vacanza in questi giorni in Calabria, appunto, nei pressi di Reggio Calabria, consiglio la visita a questo museo. E ne approfittiamo anche per salutare tutti i nostri telespettatori dalla Calabria, che ci guardano sempre in tanti. Vi ricordiamo che, come sempre, potete condividere con noi i vostri ricordi, in particolar modo i vostri ricordi legati ai pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo, inviando una foto a info-teleradio-padrepio.it. In questo modo il vostro ricordo diventa anche il nostro e ci piace comunque anche attraverso queste foto che ci state mandando documentare anche negli anni come sono anche un po' cambiati i pellegrinaggi. E allora è arrivato il momento delle testimonianze, come sempre tratte dal nostro archivio. Vi proponiamo uno straccio della testimonianza di Pietro Gasparri. Io avevo tante belleità, lavoravo, e lavoravo parecchio, mattina e poveriggio. Facevo un'università, poi avevo un desiderio di imprenditoria, di fare qualche cosa, poi dovevo seguire anche un po' le aziende personali, di mia moglie. E allora quando vuoi fare tutto non fai niente, fai malamente tutto. E allora le posi così da padre e io, padre che devo fare? Perché non tutto andava bene. E poi mi dice no, studiare è un dovere, devi farlo. E allora avevo imparato a obbligare. Allora riesco a sistemare le altre attività, rimane lo studio, rimane il lavoro e più l'azienda agricola. Però esame molto difficile, facevo ingegneria, ingegneria a Roma era particolarmente difficile, soprattutto un esame. Questo è diventato uno scoglio. Si era aperta l'università a Pari, da poco. E io, sai, non riesco a tenere il passaggio qua giù. Faccio un periodo di lavoro in casa, sono lì, mi fanno dichiarazione di lavoro, tutto liscio, tutto bene. Vengo qua giù, questo esame è pauroso perché a Roma bisogna dare due esami iscritti, qua invece lo dà in orale, lo supero brillantemente. Esame ancora di, avevo per progetto una banca, già il lavoro esame tutto preparato, tutto liscio. Siamo che presento questo lavoro al professore responsabile della facoltà, per la sua approvazione, presento tutto lo scritto, in disegno. Siamo che questo fa delle obiezioni, siccome ero molto ferrato, lavoravo in banca, e a un suo progetto io glielo contesto, non l'avessi mai fatto. Questo fa brutta figura. E allora giurna, salta per aerea, poi era piccoletto, salta per aerea incominciava, vada via, vada via. Io ho visto crollare, dove vado via, dove vado? Ommè alla mia età, dove mi scrivo? Un'altra desi di là, ma come faccio? Oddio, padre Pio, padre Pio, padre Pio. Squilla il telefono, il professore si mette al telefono, tanto l'assistente mi diceva, mi faceva segno d'attere, vatti. Io dove vado? Sono stato lì, finisce la telefonata, il professore riprende il controllo e dice, beh, vedi, allora è bene che le faccia qui, presso di un corso di scultura in ferro, poi si faccia dare il piano regolatore di Bari per studiare un'area. Io dico, sì, 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 ma mi avete detto che fa in ginocchio la piazza San Pietro, sì, sì, che... Vabbè, me ne vado via, sconfitto però. E allora però l'obbligo è venire a frequentare questo corso di costruzione in ferro. Come faccio? Mi sapevano che me ne accordano. Io giovedì avevo la lezione a Bari, partiva alle tre di notte, agli nove sere a Roma, l'unico treno, passi alle tre, alle tre e mezza, quando noi a Bari. Sennò che, fermata a Foggia, dico, ma sai che fa? Se c'è un treno da Foggia, più tardi arriva verso noi, scendo, prendo un taxi, vado a me, la messa di padre Pio, e me ne ritorno. La messa di padre Pio, qualche confessione, e me ne ritorno. Ma è meraviglioso. L'autista, che più o meno era sempre quella, alla fine mi diceva, come accendo, conti? Ma che conti? Io non conto niente, però, si chiedeva impressionare, forse... Questo però stancava, eh? E qualche volta, addirittura, quando mi spiegavo presto a Bari, che rientrava con trenna alle una, risalio su me, piavo pure la benedizione eucaristica, e poi ripartivo. Era stressante, eh? Però, dopo l'ho capito. Ho avuto delle confessioni, ho visto quelle messe d'inverno con poca gente, poca poca poca, c'era qualche cosa di unico. Ripeto, allora ne vedevo solo la parte amare, sofferenza. È sempre bello riascoltare queste testimonianze, che ricordiamo fanno parte di, a un ciclo di interviste realizzate dalla collega Paola Russo, che appunto ha incontrato tante persone che hanno conosciuto Padre Pio, tante persone, ehm, la cui vita si è incrociata, indissolubilmente con quella del, eh, santo di Pietrelcina. Vogliamo ricordarvi, anche darvi qualche, eh, info utile, perché come vi abbiamo già comunicato nelle scorse, eh, puntate, per chi pensa di, eh, organizzare il pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, vogliamo ricordarvi che, per, ehm, accedere, ovviamente, ai luoghi di culto, e, eh, quindi partecipare alle celebrazioni eucaristiche, quindi Santa Maria delle Grazie, Chiesetta Antica e Chiesa di San Pio e Chiesa Inferiore, Cripta, dove ci sono appunto custodite, eh, le spoglie di, eh, San Pio, è, ehm, necessario, eh, mantenere, ovviamente tutte le misure, eh, di, eh, sicurezza, anti-contagio in vigore, ovvero mascherina, distanziamento, ehm, igienizzazione delle mani. Mentre per il, eh, percorso più, eh, museale, ovvero quello che dalla, eh, cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, conduce poi, eh, alla cella di Padre Pio, al crocifisso delle simmate, quindi la parte più prettamente museale, è necessario munirsi di, eh, Green Pass, come appunto da, ah, a disposizioni degli, degli ultimi, dell'ultimo, eh, decreto, eh, legislativo. Eh, ovviamente se, ehm, volete avere delle informazioni in più, se volete organizzare il vostro pellegrinaggio, al meglio, vi consigliamo, come sempre, di visitare il sito, eh, del santuario, commento santuariopadrepio.it, e chiamare l'ufficio, eh, accoglienze e pellegrinaggi, che sarà sempre pronto a darvi tutte le informazioni necessarie, per organizzare, al meglio, il vostro pellegrinaggio, qui a San Giovanni Rotondo. A proposito, eh, di testimonianze, quelle che, appunto, stiamo vedendo e scoprendo in queste settimane, in cui, appunto, vi, eh, facciamo compagnia, vi proponiamo un'altra testimonianza, di una persona, eh, devota a Padre Pio, una persona che tutti voi, eh, eh, conoscete, un artista, un attore, lui è, eh, Lino Banfi, ascoltiamo le sue parole. Sì, quando capì che Nino Manfredi era ateo, non credeva, addirittura, quando facevamo, proprio in Frati Cappuccini e lui, nel film che si chiamava Un posto tranquillo, eravamo in chiesa, lui si arrabbiò col figlio che era il regista, ed è cominciato a bestemmiare, e io, oh, eh, eh, Nino, siamo in chiesa, qui c'è Padre Pio che ci sta guardando, non l'avessi mai detto, quello cominciò a fare, a Pio, dove stai? a Pio, allora dico, meglio che usciamo dalla chiesa, prima che si complicano le situazioni, però, siccome ci volevamo molto bene, lui mi stimava molto, Lino Manfredi, grande, grande maestro, quando stava morendo, non vedeva più, stava su questo letto suo di morte, tutto intubato, io riuscivo ad andare ogni giorno da lui, facevo il medico in famiglia, scappavo lì la sera, gli prendevo la mano, Nino, fammi un segno, se capisci che sono io, ogni tanto vedevo, la lacrimuccia, ma lui non si muoveva, disse alla moglie, senti, vogliamo fare una cosa, io ti porto una bella foto di Padre Pio, non grande, piccola così, tu la metti all'angolo del letto, visto che tu stai sempre vicino, vedi, poi guarda, lì verso Padre Pio, voglio proprio capire anch'io, dopo due giorni che torna io, tutta contenta lei, Erminia, la moglie, fa Lino, guarda, ho notato una cosa di Nino, che guarda quella foto, la fissa, poi se vede con lo sguardo che io sto guardando lui, gira gli occhi, come se non volesse essere visto, allora, io che cosa ho dedotto da questa cosa, da buon credente, questo stava pensando, io sto morendo, ma esiste veramente qualcosa lì, non esiste, forse io ti incontrerò a te, perché so che tu sei in odore di santità già da allora, insomma, e mi è rimasto anche a me questo dubbio, per cui raccontare questa cosa poi ai giornali, ai quotidiani, e scrissi anche una poesia, come faccio io in Rimebacete, sull'argomento, insomma, sono riuscito a capire che un po' di dubbi ce l'aveva pure lui. Oggi che cos'è per te, Padre Pio? Beh, oggi, per chi crede, intanto una fonte di speranza, perché io, per esempio, tutte le volte che vado a parlare come nonno, adesso, il prossimo 2 ottobre, c'è la festa dei nonni, c'è il primo ottobre la conferenza stampa al Senato, quindi a me come nonno d'Italia, addirittura adesso mi chiamano lino d'Italia, lino nazionale, dico, chiamatevi lino di Mameli e cantatelo, almeno mi sento più importante, e quindi è una responsabilità pure, è un onere questo onore che c'è di essere il nonno d'Italia. Ogni volta che devo parlare di queste cose, mi viene subito in mente lui e dico, tu, saresti stato un nonno stupendo, un nonno del mondo, che devo dire io adesso lì per esempio, perché io non amo molto leggere le cose, io voglio andare a braccio, si dice, quindi sicuramente gli chiederò aiuto e quando dico ai ragazzi, ai bambini, a quelli che mi fanno le domande, quando vado a parlare all'università, alle scuole, dico, voi vi dovete tatuare sul vostro corpo, anche se non si vede, tutta la saggezza di un nonno, perché quella va tatuata, la dovete guardare, ogni giorno vi dovete ricordare di vostro nonno e in quel momento io penso a lui, stranamente. Le parole del grande Lino Banfi, il nonno d'Italia, come ormai appunto viene definito, come lui stesso raccontava, che ringraziamo davvero per essersi raccontato alle nostre telecamere nell'intervista rilasciata al direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella e davvero non manca mai questo grande attore di sottolineare l'importanza della figura dei nonni, davvero i nonni sono una grande ricchezza per il nostro paese e soprattutto anche per le nuove generazioni, per quanto hanno da raccontare, per quanto hanno da insegnare, salutiamo tutti i nonni che ci stanno seguendo, sappiamo che sono tantissimi, a loro abbiamo dedicato diverse puntate, la nostra finestra sul mondo degli anziani è sempre aperta, quindi un abbraccio a tutti i nonni che ci seguono sempre numerosi. Vi ricordo il nostro indirizzo info chiocciola teleradio padrepio.it per mandare le foto del vostro pellegrinaggio e quindi condividere con noi i vostri ricordi delle vostre visite qui sui luoghi di San Pio, vi ricordo anche che Padre Pio TV prima ho fatto riferimento alla pagina YouTube per andare a rivedere le nostre puntate per vedere cosa c'è nel nostro archivio però vi ricordo anche che Padre Pio TV può essere seguita anche in streaming dal nostro sito www.teleradio padrepio.it quindi davvero vi riusciamo a raggiungere in tutte le forme possibili che la tecnologia ci mette a disposizione di questo siamo contenti ora ci fermiamo solo per qualche minuto diamo la linea alla regia per una breve interruzione poi ritorniamo ancora qui in diretta dai nostri studi con tempio d'estate 11.05 22 secondi in questo momento ritorniamo in diretta alle 11.30 come sempre parteciperemo alla Santa Messa la celebrazione eucaristica in diretta dalla chiesa di San Pio che sarà preseduta quest'oggi questa mattina da fra Nicola Monopoli allora abbiamo iniziato il nostro viaggio attraverso i ricordi e le testimonianze di chi ha conosciuto padre Pio di chi pur non avendolo conosciuto ne è profondamente legato con grande devozione e continuiamo il nostro viaggio nei ricordi di padre Pio TV in questo caso ascoltando come sempre ci piace fare le parole di padre Marciano vorrei giocare sulla parola hai detto più che la comunione con Gesù è vero? sì la comunione con i fratelli prima della comunione con Gesù la comunione con i fratelli ma il termine comunione che cosa dice? stare insieme allora se io faccio la comunione con Gesù e Eucaristia io mi metto in relazione con Lui vivo di Lui mangio Lui perché voglio diventare Lui mangiare l'Eucaristia come hai detto all'inizio il tema essere Eucaristia vivere di Eucaristia per essere Eucaristia quindi è la partecipazione io faccio la comunione ma Gesù è anche nei fratelli essendo nei fratelli io manciando vivendo di Gesù non posso escludere gli altri è un fatto logico spontaneo con tizio sino a qua nonno non può essere diversamente per cui se io vado all'altare e prima di arrivare all'altare se io entro in chiesa chiedo scusa del mio modo parlare un po' troppo spicciolo un po' troppo elementare però per te va bene insomma grazie se io entro in chiesa perché domenica mi voglio sentire la messa e prima di scegliere il posto vedo bene dove mi debba andare a sedere non perché ci sono gli spifferi e poi c'è la corrente d'aria ma vedo che lì c'è l'amica e all'altra parte c'è una signora che con me è meglio stare lontano e io vicino a quello non mi vado a sedere perché poi il sacerdote dirà scambiatovi il segno della pace e poi devo scambiare la pace ah no questo poi no e qui non c'è comunione non c'è comunione può sembrare una cosa così semplice però allora io vado a farmi l'eucaristia vado a cibarmi dell'eucaristia ah no comunione con tutti ma quello proprio vuol dire allora scusami se parlo così vuol dire che un po' Gesù Cristo rimane sullo stomaco diventa indigesto perché io devo mangiare Gesù ma devo mangiare i fratelli o sono belli o meno belli o ci vado d'accordo o non ci vado d'accordo questo è eucaristia cioè ma io non sto dicendo nulla di straordinario cosa dice Gesù nel mancello dice se stai all'altare e stai per fare l'offerta al Signore e ti ricordi che non stai in pace con il tuo fratello lascia stare l'altare se hai dato l'offerta l'offerta al sacerdote per farti dire la messa per il suffraggio di Tizio e Caio e ti ricordi che non stai d'accordo con il fratello lascia stare quella messa vai prima dal tuo fratello e allora quella messa è intera autentica perché Cristo Signore è in te ma è anche nell'altro fratello la semplicità delle parole di padre Marciano come lui stesso ha ricordato anche con una battuta un linguaggio semplice che sapeva davvero arrivare a tutti allora noi abbiamo proposto nel corso delle nostre dirette anche una sorta di viaggio virtuale nei luoghi qui vicini a San Giovanni Rotondo proprio per darvi anche magari degli spunti per il vostro itinerario di vacanza qui a San Giovanni Rotondo e allora continuiamo questo viaggio che l'abbiamo chiamato cartoline dal Gargano lo facciamo facendovi vedere portandovi oggi nel parco archeologico di Siponto proprio qui vicino a San Giovanni Rotondo questi sono i contributi realizzati da Anna Maria Salvemini sono degli stralci di alcuni reportage fatti diversi anni fa da Anna Maria Salvemini proprio sul Gargano e allora andiamo a visitare questo luogo davvero molto suggestivo pieno di storia e ci racconta tanto andiamo a scoprire insieme questi fichi d'India sono soltanto gli ultimi arrivati e possono trarre in inganno ma siamo in realtà nel neonato parco archeologico di Siponto Siponto è il nome antico della città di Manfredonia la città romana presente qui già dal primo secolo ed è un luogo probabilmente abitato anche in età antica in età paleolitica possiamo immaginare qui una grande città romana con le sue istituzioni con l'anfiteatro una città viva nel quarto e quinto secolo è come tutte le città romane appena al di fuori delle mura il suo cimitero la sua bellezza è nella fusione tra pietra e testimonianza dell'essere umano tra paesaggio naturale e presenza antropica tra roccia e natura abbiamo visto i fichi d'India vediamo anche altre culture come in questo luogo natura ed essere umano si sono compenetrati proprio nel momento della sepoltura proprio nel momento in cui i corpi si uniscono il complesso è costituito da cinque grandi ipogei adesso li andiamo a vedere sono ripeto ipogei destinati a persone di alto rango dicevamo di sepolture a cielo aperto che probabilmente avvenivano in questi luoghi al quale poi si aggiunzano nel corso del quarto e quinto secolo l'utilizzo delle tombe cioè delle grotte scavate nella roccia andiamo a vedere uno il primo di questi ipogei e qui si comincia a intravedere l'opera umana del tufo che utilizza il preesistente la grotta preesistente vediamo i loculi ad un certo punto questo luogo diventa cava diventa cava da dove estrarre appunto questi tuffi ecco perché vediamo diverse altezze dobbiamo immaginare tutto su un piano e poi nel corso del tempo il riutilizzo di questi luoghi come cava da costruzione anche questo è un elemento suggestivo da questo luogo sono stati estratti i tuffi con cui è stata costruita la città di Manfredonia e in qualche modo la città è debitrice delle pietre che provengono da questo luogo come vedete il visitatore è accompagnato ed immerso in una suggestiva musica e un video che descrive le decorazioni che si possono trovare su muri bisogna immaginare questo luogo come affrescato pieno di decorazioni capitelli un luogo cimiteriale dove queste tombe venivano arricchite dal culto dei morti visitare questi luoghi sì c'è l'elemento del tuffo del passato nel ritornare in un luogo di saltare immediatamente tanti secoli e ritornare a percorrere le vie di un'antica città ma qui si sente anche la testimonianza del rapporto con i morti che chi ha vissuto in questi luoghi aveva il culto e la religiosità che era fatta di questi gesti qui troviamo anche il lavoro di scavatura di una cava di pietra possiamo toccare con mano proprio il tufo di pozzolana che ha costituito un elemento vitale per la costruzione di questi luoghi l'effetto è quello di entrare in una basilica in una basilica dove la componente centrale l'ha fatta la natura l'ha fatta la roccia e dove l'opera di arricchimento deve compenetrarsi e unirsi a quello che ha già compiuto il lento cadere delle piogge dell'essere umano è facile immaginare che quando questi luoghi divennero parte della masseria Capparelli divennero anche il ricovero di animali e di stalle da qui anche la raccolta delle acque e la riattualizzazione al luogo di magazzini per attrezzi agricoli sono belli questi questi dettagli di tufo regolare che si innesta nella roccia da qui questo tufo comunque è tratto qui si può vedere come come è sedimentata questa roccia con i resti di conchiglie probabilmente anche utilizzate per le decorazioni della torna e che meraviglia questo viaggio in questo luogo davvero speciale qui a pochi passi da noi ovvero il parco archeologico di Siponto che tanti pellegrini che vengono in questi luoghi avranno sicuramente avuto modo di conoscere lì dove c'è anche la straordinaria opera d'arte dell'artista tre soldi ovvero la chiesa appunto la basilica riprodotta in rete metallica invitiamo tutti quelli che sono qui in questa zona a visitare questo posto davvero molto suggestivo e però pensiamo e noi lo facciamo concretamente facendovi compagnia speriamo anche a tutti quelli che non possono andare in vacanza proprio come ha fatto lo stesso Papa Francesco in un tweet ovvero ricordiamo coloro che non possono andare in vacanza penso specialmente ai malati agli anziani ai carcerati ai disoccupati ai profughi a tutte le persone che sono in difficoltà Maria estenda su ciascuno la sua materna protezione noi allora speriamo di entrare nelle vostre case chi non è in vacanza speriamo appunto si senta a meno solo in nostra compagnia ora andiamo ad ascoltare sempre dal nostro archivio la voce dei pellegrini di qualche anno fa era il 2017 ne abbiamo come sempre intercettati tanti sul nostro sagrato e noi vogliamo riproporvi questo piccolo vox da dove venite? La provincia è Messina il mio paese d'origine è Nuova di Sicilia però abito vicino al mare a Termi Vigliatore zona Barcellona siamo in un gruppo ci siamo trovati benissimo abbiamo visto tante cose anche se io qui è la terza volta che vengo e c'è un'emozione particolare perché è come se fosse sempre la prima volta poi questo è un posto magico accompagno questo gruppo e loro vengono qui con tutta per chiedere speranza per chiedere aiuto a Padre Pio Padre Pio esaudisce questo mi colpisce la sua umiltà che ha sempre avuto Padre Pio e poi la sua costanza la sua determinazione perché ho saputo anche tante cose della sua vita prima quando era in vita di cui è una persona specialissima andiamo a Monte San D'Angelo anche facciamo vedere questo santuario specialissimo e poi andremo alla Madonna di Signano poi andiamo anche al santuario di San Matteo loro si portano con loro la benedizione e anche tutta l'influenza positiva di Padre Pio da Bovillerni e di Frosinone io sono venuto più volte è una sensazione di fede più che altro ecco noi siamo in un viaggio organizzato quindi io sono sì un gruppo io sono venuto altre volte per conto mio c'è un forte senso di spiritualità vengo da Torino ma vengo da Padre Pio perché sono devota a Padre Pio e vengo sempre ogni anno quando vengo anche durante l'anno mi faccio portare da mia nipote qui sento il mio cuore che si apre il cuore quando vengo qui a Padre Pio a Padre Pio